Camera cara confronto, sono quelli di Franco Cunico e Piero Longhi, nella prima speciale del campionato assoluto rally, quella di Castiglione, la più lunga e impegnativa del rally Coppa Libu. Una quattro ruote motrici turbo, la Ford Escort, contro una due ruote motrice motore aspirato, la Renault Megane Maxi, un confronto ovviamente impari, in particolar modo sulla terra viscita della gara toscana, che comunque mette in evidenza, oltre naturalmente ai differenti stili dei due piloti, anche la globale e differente impostazione di guida tra una trazione integrale e una due ruote motrice anteriore. Un confronto che ripeteremo prossimamente su tipi di fondo più adatti alla Megane e che avrà sicuramente esiti diversi. Prima corsa.